In diretta, intanto che aspetto che si connettono tutti e che mi diciate eventualmente se si sente male o no. Io faccio le inquadrature. Ok, ciao a tutti amici, ben ritrovati sul nostro canale. Grazie. Innanzitutto mi spiace di aver rimandato all'ultimo minuto la diretta prevista di ieri, ma avevo la febbre altissima e anche oggi, come si può vedere dalla faccia e da questa pettinatura da cuscino, non sono proprio guarita tantissimo ma sono qui anche se un po' malatticcia, scusate, perché ci tenevo a fare questo momento di incontro per raccontarvi un po' che cos'è lo Luke Read, cercare di rispondere alle domande, sperando che questa diretta basti a rispondere a tutto, nel caso se non lo facesse mi scrivete ovviamente in privato e rispondo a tutto. E siamo contentissimi perché abbiamo ricevuto tanti, tanti, tanti messaggi, ma in un modo che non era mai successo nella storia della nostra libreria e quindi ci rendiamo conto di un evento particolare, quindi oggi cercherò di spiegare tutto mi sono appuntata le vostre domande. Tra l'altro mi avete fatto troppo divertire, i vostri commenti sono fantastici, un sacco di persone che ci scrivevano No, ma non è vero, non è possibile questa cosa della borsa, invece sì, è tutto vero? Oppure chi ci scriveva, non so come ho fatto a vivere finora senza questo evento, siete fantastici? Siamo contentissimi, soprattutto di riscontrare che tantissimi giovanissimi sono interessati a Luke Read quindi i giovani leggono e questo ci rende molto molto felici. Allora iniziamo dalla primissima cosa, ovviamente le date, girano, circolano delle date non ufficiali quelle ufficiali sono dal 16 al 19 giugno, sono giovedì, venerdì, sabato e domenica e sarà fatto in entrambi i nostri due punti vendita. Noi siamo a Milano e provincia, un negozio è a Cambiago che si trova proprio a un chilometro dall'uscita dell'autostrada Milano-Venezia, l'uscita è Cambiago-Cavenago e questo negozio Cambiago sarà aperto il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 continuato. Il negozio di Milano si trova in zona Certosa, in via Carlo e Spinasse e sarà aperto il giovedì e il venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica 10 alle 19 ore continuato, è tutto scritto sul sito e sui volantini però siccome me l'avete chiesto in tanti, lo ridico. In cosa consiste questo evento? C'è una borsa in tela, vediamo se riesco a farvela vedere, io ho provato a riempirla non è fatta così in realtà, questa è quella dell'anno scorso, ogni anno cambia faccia questa borsa in tela costa 10 euro e tutto quello che riuscite a metterci dentro è il regalo con la borsa, quindi dovete riempirla così questo lo dico perché c'è gente gli scorsi anni che usciva con 5-10 libri no, li prendevamo, li portavamo indietro e dicevamo riempila così allo You Can Eat mica mangi solo il primo, giusto? quindi ti devi proprio riempire ovviamente è un evento che piace tantissimo, partecipatissimo quindi questo ve lo devo dire, noi è tutto l'anno che selezioniamo materiale per questo momento quindi materiale è tanto, però non è infinito se arrivate veramente in tanti come io penso, considerate i messaggi, i commenti ovviamente sarà fino ad esaurimento scorte io spero che basterà per tutti e quattro i giorni però mi sembra giusto dirvi che ovviamente finché le borse ci saranno finché i libri ci saranno, l'evento ci sarà altrimenti è fino ad esaurimento scorte io ricordo che l'anno scorso mi sembrava io sono lì a riempire poi i vuoti che voi fate mettendo nella borsa mi sembrava di riempire un secchio pieno di buchi e svuotavate, svuotavate, svuotavate ovviamente è un evento unico e vuoi mettere la soddisfazione di riempire una borsa piena di libri non esiste da nessuna parte quindi capisco però appunto si prende in tante e in grandi quantità e quindi ve lo dico a fine esaurimento scorte speriamo vada tutto bene anzi la tengo qua una vostra domanda è ma sono i libri che normalmente questi sono i nostri clienti troviamo in libreria? no, in realtà sarà allestito uno spazio ad hoc che non sono le nostre librerie perché per le nostre librerie ci sono libri codificati ci sono libri prezzati selezionati in un altro modo questi invece sono proprio stati selezionati per l'evento ci sarà uno spazio a circuito e qui riesco a rispondere anche a un'altra domanda che è ma sono vincolato a prendere la borsa? ovviamente no cioè voi arrivate in questo spazio dedicato a Luc & Reed troverete un appendino con delle borse prendete la vostra borsa vuota e iniziate il vostro giretto c'è proprio un circuito quindi dovete fare un percorso abbastanza obbligato scegliete i libri che vi piacciono di più riempite la borsa se la borsa è piena andate in cassa e pagate la borsa che costa 10 euro non mi ricordo se ve l'ho detta se invece entrate e non trovate niente è molto difficile però potrebbe, se è non siete ovviamente vincolati a prendere la borsa finito il circuito mi lasciate la borsa vuota e potete anche andare in libreria tra l'altro i nostri prezzi sono comunque popolarissimi siamo una libreria dell'usato e vi dico tipo la narrativa al massimo costa 5 euro la saggistica al massimo 8 euro ma proprio i titoli quindi per darvi un'idea se non trovate proprio niente allo look and read avrete sicuramente di che prendere nelle nostre librerie quindi non siete vincolati assolutamente a prendere la borsa poi mi avete chiesto in tanti posso venire in più giorni? certo non è un evento a prenotazione sono degli eventi che stanno proprio nei nostri negozi che sono aperti noi non siamo solo una libreria siamo un grande mercato del riuso e dell'antiquariato quindi potete entrare liberamente non è necessaria la prenotazione e appunto potete venire più giorni assolutamente prendere anche più borse ecco mi chiedete al momento certo tantissimi prendono tipo 3 borse perché comunque con 30 euro ti porti a casa anche 90 libri se sei bravo a metterli dentro bene quindi assolutamente nessun vincolo da questo punto di vista quindi mi chiedete si deve prenotare? no non si deve prenotare però ovviamente potrebbero esserci delle code per entrare perché appunto vi dicevo è un evento molto ambito e non dovrebbe succedere nel senso che adesso non c'è più la contingentazione quindi gli spazi sono molto ampi molto grandi riusciamo a farvi entrare più oggevolmente però ve lo dico è possibile una piccolissima attesa all'ingresso ah ecco mi chiedete come arrivare ai nostri due punti vendita che fanno l'Oluca Reed dunque quello di Milano io non sono milanese ma sul sito vedete proprio scritto si trova a 400 metri dalla stazione di Milano Certose Villa Pizzone quindi per chi vuole venire coi mezzi è comodissimo oppure potete prendere il tram 1-12-19 oppure il bus 57-40 se invece siete più dalle nostre parti più in provincia Cambiago e deve essere però raggiunto per forza con la macchina e qui rispondo anche alla domanda dite la verità è meglio Cambiago o Milano è proprio la stessa cosa cambia solo come tu puoi venire da noi quindi uno è provvisto di mezzi l'altro no tra l'altro già che ci siete sono dei bellissimi negozi del riuso quindi se siete appassionati anche di vintage second hand c'è l'abbigliamento c'è l'oggettistica c'è l'arredamento quindi è comunque un luogo veramente da scoprire quindi già che siete lì mentre aspettate date un'occhiata ecco questo ve l'ho detto cancello le domande così non salto niente ah ecco in tanti ragazzi ci avete scritto ma devo restituirli ma no ma non è una biblioteca assolutamente no sono il regalo cioè li comprate li comprate con la borsa quindi so che sembra incredibile ed eccezionale ma è così quindi assolutamente non dovete restituirli questo vi ho risposto anche questo ah ecco in tanti ci chiedete posso avere tipo una lista un catalogo per sapere che cosa c'è non è proprio possibile noi non abbiamo un catalogo di questi libri vi possiamo dire che il materiale è molto vario quindi spazia dalla narrativa la saggistica la manualistica quest'anno troverete anche dvd e cd li abbiamo inseriti che gli anni scorsi non c'erano qualche libro in lingua originale soprattutto inglese qualche libro per bambini anche mi avete chiesto in tanti c'è qualcosa però non tantissimi per il semplice fatto che noi come libreria teniamo il materiale che ci arriva teniamo solo le cose tenute molto bene e spesso libri per bambini ci arrivano stracciati pitturati quelli ovviamente li doniamo non li usiamo nel nostro circuito di vendita per questo motivo non li trovate tantissimi ma anche nei nostri negozi vedrete che è così qualcosa però potrebbe esserci mi chiedete se ci sono manga perché abbiamo fatto un bellissimo evento manga l'anno scorso anche lì siete stati tantissimi non ci sono i manga hanno un prezzo particolare sono più rari e quindi stanno sul nostro sito non ci sono fumetti perché stiamo organizzando un evento proprio dedicato al fumetto a settembre quindi tutto quel materiale lo stiamo mettendo da parte lì quindi non troverete questo materiale e ragazzi non troverete ovviamente novità editoriali forse non l'abbiamo dato un po' per scontato ma me l'hanno chiesto in tanti siamo una libreria dell'usato quindi non troverete uscite di quest'anno no ovviamente classici contemporanei anche fino all'anno scorso è molto probabile ma non proprio le ultime uscite ecco questo no questo ve l'ho detto e come materiale penso di aver tirato tutto saggistica narrativa manualistica sì veramente vario ecco quando si entra nelle nostre librerie non c'è spesso non entri che cerchi un titolo particolare spesso è il libro che cerca te quindi è proprio la cosa bella delle librerie dell'usato è perdersi cercare dei libri magari titoli improbabili titoli che non si vedono più perché ovviamente magari non sono più stati stampati non sono più stati editi quindi si trovano veramente delle chicche secondo me è una bellezza andare nelle librerie dell'usato quindi ovviamente non troverete news ma perdetevi insomma state ovviamente nel circuito è possibile sostare scegliete che cosa prendere e mettete nella borsa altra domanda che mi chiedete se lo fate in altre regioni purtroppo adesso siamo solo a Milano e non so magari qualche altra libreria dell'usato librerie nuove non credo sia conveniente per loro però se conoscete qualche libreria indipendente che magari si vuole fare pubblicità taggatela e potrebbe essere un'ottima occasione per prendere un po' di giovani insomma poi ecco mi chiedete se posso vendere libri al momento che sono lì allora no al momento dell'Ulucarid non sarà possibile perché saremo presissimi funziona così noi in realtà compriamo solamente libri antichi e molto rari di cui poi la nostra libreria si fa un po' portavoce tutto il resto noi lo recuperiamo attraverso il lavoro degli sgomberi noi siamo una cooperativa sociale anzi approfitto per dirti di andare sul nostro sito a conoscerci perché è una realtà bellissima impegnata nel sociale impegnata nel riuso una realtà tutta da scoprire e quindi noi selezioniamo materiale oh mamma cosa stavo dicendo scusate mi si è alzata la febbre e non capisco più cosa stavo dicendo ah sì che noi recuperiamo attraverso il lavoro degli sgomberi e quindi non compriamo libri ma il nostro lavoro è quello di recuperare libri dalle case magari offriamo uno sgombero gratuito e ritiriamo il materiale lo sistemiamo lo puliamo lo selezioniamo e lo smistiamo nei vari eventi quindi in quel momento non sarà possibile vendere ma se avete qualcosa tipo dei manga in grandi quantità oppure intere librerie oppure titoli antichi tipo dall'ottocento in giù allora scrivete a librerie online chioccioladimanoimano.it mi mandate delle foto io mando alla collega che si occupa dell'acquisto e vi facciamo una proposta ecco in questo caso sì io penso di aver risposto proprio a tutto adesso vediamo se avete voi qualche domanda spero di riuscire a leggere che bello siete in tantissimi sarò al mare se mando mia sorella può entrare con cellulare e videocamera così la guido certamente grande Elisa scusate vi sto vorrei i messaggi adesso li guardo tutti effettivamente è un po' una stagione da mare però fate la scorta per le vacanze aspetta qui vado su come si vede non sono molto pratica che bello siete tantissimi no basta mi sembra l'ora di essere abbastanza stata esaustiva io allora vi ricordo che l'evento sarà fino esaurimento scorte ma vedrete che ce ne sarà per tutti riuscirete a fare una bella facciata vi aspetto quindi dal 16 al 19 in entrambi i nostri punti vendita se non dovessi aver risposto a qualcosa se ho dimenticato qualcosa scrivetemi qui oppure sempre su quell'indirizzo che vi dato prima libreriaonline che c'è di mano e mano punto it e vedrò di rispondervi è un evento bellissimo ci fa piacere rendere la lettura alla portata di tutti e ci fa piacere tantissimo vedere sempre giovanissimi che approfittano di queste situazioni per leggere e insomma visto che si dice sempre che i giovani non leggono il futuro non è del libro ecco questi eventi sventiscono e quindi siamo molto molto contenti di vedervi vi aspettiamo e grazie per averci seguito per oggi grazie buona scorpacciata per lo you can read ah dimenticavo visto che magari mi avete chiesto un po' come fatto lo spazio potete andare sulla nostra pagina nelle cartelline salvate su instagram ci sono i video le foto dei vecchi you can read così vedete un po' come può essere il percorso che materiale potrebbe esserci è un po' quello potrebbe aiutarvi di più e poi nel caso in cui dovesse malaguratamente finire tutto perché siete in tantissimi non vi preoccupate che io vi avviso faccio una diretta qui vi avviso su tutti i canali possibili sullo stato whatsapp su tiktok su facebook tutti i nostri canali e vi avviso ecco se venite da lontano perché in tanti incredibilmente ci hanno detto che fanno dei pullman da roma da torino ma ragazzi ma è bellissimo però ecco se fate un viaggio così lungo per favore prima fate un colpo di telefono magari non si deve fare ma vi lascio il numero tanto è quello dell'ufficio è 331 693 3677 mi chiamate e mi dite Raffaella com'è la situazione posso partire e io ve lo dico va bene? grazie di tutto questo coinvolgimento siete fantastici alla prossima grazie a tutti